cheers hola sei tu Fabio sei forte non litigate ce n'è per tutti ce n'è per tutti non litigate ce n'è per tutti andiamo a vedere dall'alto da vicino sei tu eh sì non me l'aspettavo buona pedino caro cheseria cheseria buona pedino buona pedino animazione può sentire a caldo i magnifici 7x2 che siete voi 14 i fantastici quattro insegnanti di matematica che c'è